A quasi due anni dal commissariamento per infiltrazioni mafiose, anche Leni tornerà finalmente al voto e lo farà, per la prima volta nella sua storia, con il sistema del doppio turno delle liste equalizzate, una novità che secondo i sondaggisti favorirebbe le coalizioni riconoscibili a livello nazionale, considerata anche la concomitanza con regionali ed europee. Ciò nonostante, la classe politica risulta assai frammentata, poche le certezze fino a questo momento, due per l'esattezza, il candidato di centrosinistra Gianfranco Brugia Freddo ha già presentato la sua coalizione composta da partito democratico moderati e dalla civica Leni Futura, guidata da Fabrizio Gea, ex consigliere, già indicato come vice sindaco in caso di Vittoria. L'altra certezza è quella a 5 stelle, il movimento di Grillo ha già designato Silvia Cossu come suo leader e annunciato, come in tutte le altre città, che non farà alleanze. Più complicata la situazione del centrodestra, falcidiato dall'inchiesta per Andrangheta Minotauro a causa del commissariamento, su questo fronte si respira aria di prima repubblica. Il candidato sindaco potrebbe essere Giuseppe Cozza, già primo cittadino di Leni in quota democrazia cristiana ai tempi del pentapartito e subito prima dell'avvento della dinastia dei Coral. Su di lui potrebbe convergere sia il gruppo di Forza Italia e Lega messo in piedi dall'ex assessore Silvano Riva, sia quello dei fedelissimi di Nevio Coral, a cominciare dall'ex vice sindaco Alfio Rocca, referente del nuovo centrodestra e uomo filato di Vito Bonsignore. Ma la contesa, con ogni probabilità, vedrà uno schieramento di candidati più vasto, generato dalla disgregazione post Minotauro. Tra i gruppi civici che si preparano alla chiamata alle urne c'è quello capeggiato dall'ex consigliera Gabriella Leone. Anche se su questo fronte, un gioco di vetti incrociati potrebbe favorire il giovane Fabrizio Troiani, ex consigliere pure lui ed ex bandiera lenicese dell'Italia dei Valori. Il suo nome, contrapposto a quello della Leone, sarebbe stato proposto in una riunione da Ezio Navilli, altro ex consigliere, a sua volta aspirante sindaco, che avrebbe trovato proprio in Troiani l'unica possibile mediazione con la Leone. Altro gruppo, altro candidato. In campo, anche Giuseppe Musolino, al secolo mister preferenza, sostenuto da un'area centrista che ha nell'ex consigliera Carmela Masi e nell'ex segretario cittadino dell'Udc Vito Vallone, le sue punte di diamante in chiave elettorale. Tuttavia, Musolino, corteggiato da più parti, centrodestra, centrosinistra e gruppo della Leone in primis, alla fine potrebbe optare per trasferire armi e bagagli la sua lista in una delle coalizioni ritenute favorite. Dulcis in fundo, Silvio Chiarioni, ex idv ed ex grillino, che ha ufficializzato le sue intenzioni di correre per la fascia tricolore, originando una diatriba con tanto di carte bollate ai piani alti del Movimento 5 Stelle, che l'ha diffidato dall'utilizzo di un simbolo ritenuto similare a quello pentastellato.